Grazie Signore e signori una buona giornata a tutti voi Siamo presso il comunale di Sublani Dove l'Himalaya affronta la San Francesco Mister hai un laccio slacciato, non è che mi cadimi in campo Siamo fuori Lunga, 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 lascia Chiudiamo E fermalo Bravo Andre In corso unina in centro al campo Occhio a Doni E' un'esima occasione del calcio di punizione da parte della San Francesco Michele arriva lì Dani Arriva lì Dani No Luca non aspettare Bravo Andre Dai Un corso unina da parte della San Francesco Che tira alto Sulla traversa Sulla traversa Fuori qui fuori Ah beh Bravo vai No è di fisico C'è un bravo No è di fisico Fermalo Buono buono Bravo Bandi Vai Kri Vai Kri Vai Kri Dai Vai Kri Vai Kri Vai Kri Vai Kri Vai Kri Avanti Avanti Vai Kri Bravo Andre Tentativo di curso da parte di Ilias Che viene interessato di poco dal difensore Ancora un tiro da parte del numero 8 da parte della San Francesco Tiro da parte della San Francesco Numero 8 quando siamo arrivati al ventesimo del primo tempo Il Malai a San Francesco 0-0 Si è batte il luogo che fa il gol Ma lo vattene No Ma lo vattene No No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo al 35esimo del primo tempo, Himalaya contro San Francesco, 0-0. Grazie a tutti. Siamo al 35esimo del primo tempo, 0-0. Bello, bello. Vai, occhio, non fai saltare, non fai saltare. Vai, Cri, tua. Via, metti il fisico, metti il fisico. Via, Cri. Via, via, via. Così, sempre il fisico, Cri. Vai, Fri, vai così, Fri. Vai, Fri, vai tu, vai tu, vai tu. Oh, bravo, Cri. Vai, Fri. Vai, Fri. Vai, Fri. Ragazzi, dai. Non fai respirare. Sì, sì. Falle, falle. Stiamo prendendo gioco. Tieni lo, bandi. Occhio al fallo. Occhio al fallo. Va bene, va bene. Secondo che tu glielo dà lì, eh. Glielo dà il fallo. Non è neanche dentro il fallo. Ce l'ha le mani alte. Attenzione. Partiamo. Partiamo. Dai, attenti. Vai, Giga. Esci, esci. Dai. Vai, Luca. Uscite. Insisti. Bravo, vai. Bravo, Ili. Bravo, Ili. Siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo. Esce Ilias. Chi è entrato? Ilias è entrato Edoardo. Ed entra Edoardo Lubina dell'Himalaya. Ah, il gol da vicino. Angelo, falla a terra perché il terreno è quello che è. Falla a terra. Terra e vai. Vai, 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 vai. Vai, Fri. Vai, Fri. Vai, va bene, va bene. Vai, Luca, Luca. Vai. Ferma, per la sua palla. Un minuto. Dai, perché ti hanno danato? Ferma. Vai. Vai, Fera. Vai, Fera. Vai, bravo. Vai, Fera. Entrando Francesco Signoretti ed esce Luca Carta dell'Himalaya quando siamo giunti al decimo del primo tempo. Vai, Fera. Vai, Fera. Colau, Nicolau. Dai. Dai. Perché gli state facendo un'altra? No. Dai, Fera. Cos'è il fisico? No. No. Ma ho capito perché si gira. Eh, sì. E si gira. Vai, forza, ragazzi. Dai, Maraio. Cri, allarga, allarga, Cri. Incomincia. Ah, no. Ma la fischi? Prima no. Madonna. Non ho fatto il sedimo, prima. Cri, ricorda. No, polizia. Marca lo stretto. No. No, ragazzi. Cristian Mura, quando siamo giunti al diciassettesimo del secondo tempo, entra. Chi è entrato? Chi è entrato? Gabriele Caredio è entrato, è uscito. Corri. Corri. Muzie. Vai, Ledo. E lo lo ha messo. E' carico il pull. No, non è vero. Bravo, Ledo. Bravo. No, io. Tiro dalla trequarta, quando siamo giunti al diciannovesimo del secondo tempo da parte della San Francesco. ancora 0-0 il parziale. Vai, tira al centro! Bravo Dani! Dai! E' bene! Prendilo! 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 Datemi i cambi. Chi sta entrando? Cesare Piras esce. Bravo Panti! Esce Cesare Piras al venticinquesimo del secondo tempo. Ed entra. Chi sta entrando? Il quattro è da solo. Il quattro è solo davanti alla porta. Non si sveglia. Va bene. Bravo Dani! Bravo! Si vedeva, era a fianco l'arbitro. E se ti metti davanti la parte. Ti ho detto che non arriviamo. Bravo! Bravo Friga! Da chi arriva lì? Lo fa fondere. Si. No! 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 Perché indietreggiano? Si! No! Si! No! La giusta è giusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.